Avilus 1 e 2 taglio finale, Marta Bassianelli backstage, 1, 2, prima Per le interviste del Prode Fernando oggi ci troviamo Qui con Marta Bassianelli, la campionessa mondiale di ciclismo Alla quale chiediamo Cara Marta, eccoci qua Come mai hai deciso di partecipare anche tu a questo progetto amatoriale Il film Avilus 1 e 2 del Prode Fernando Perché anch'io sono sensibile a queste campagne Per cui sono molto felice che venca incettivata questa campagna Per far sì che le donne possano essere a tutti gli effetti sostenute sotto questo punto di vista Non l'abbiamo ben specificato ma era la campagna contro la violenza sulle donne Grazie a Marta Bassianelli e buona giornata e buon allenamento Ci vedremo su Avilus 1 e 2 taglio finale, il film del Prode Fernando Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti